Grande successo per il Parsifal Piano Trio, che si è esibito presso l'Aulamagna del Consorzio Universitario di Caltanissetta, regalando al pubblico presente un'esperienza musicale unica. Il trio, formato da violino, violoncello e pianoforte, fondato nel 2001, ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia in Italia che all'estero. Siamo il Parsifal Piano Trio, violino, violoncello e pianoforte. Siamo molto felici di essere qui a Caltanissetta, in maniera speciale perché conosco il maestro Michele Petitto da tantissimi anni e quando mi ha invitato per me è stato veramente un grande piacere. Siamo qui per questo concerto che prevede musiche di Clara Wick, il trio, opera 17 e la seconda parte interamente dedicata ad Astor Piazzolla con cinque brani tratti dal nostro ultimo CD che è uscito in occasione del centenario della nascita di Piazzolla nel 2021 che si intitola Trio Fortango. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Musicale e Culturale Classiche d'Intorni di Caltanissetta presieduta dal maestro Michele Petitto con il supporto delle associazioni archeologiche nissena, alchimie e d'antalighieri. Grazie.